Erano stipati su una barca a vela in avaria, soccorsa da motovedette della capitaneria di Porto, i 71 migranti arrivati ieri sera intorno alle 20 a Bari. Il natante era a circa 27 miglia a nord del capoluogo pugliese, a largo di Molfetta, in acqua internazionali, quando è stata lanciata via radio la richiesta di soccorso. All'imbarcazione, a quanto si apprende, era stato tolto l'albero per meglio adattarla al trasporto di clandestini, i migranti, fra i quali due donne che sarebbero di nazionalità afghana, anche se le forze dell'ordine non hanno escluso o possano appartenere ad etnie differenti, sono tutti in buone condizioni di salute, nonostante siano arrivati, infreddoliti, estremati. Per qualcuno è stato necessario l'intervento dei medici per crisi di ipotermia, ma senza gravi conseguenze. Per la capitaneria di Porto è la terza operazione di soccorso in due settimane. I due scafisti di nazionalità ucraina sono stati arrestati. 25 i minori accompagnati in un centro di accoglienza, gli altri si trovano ora nel cara, il centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari.